Ben trovati su questo spazio di approfondimento della pagina Facebook di Eventi e Press, oltre che sul nostro canale YouTube. Continuiamo a parlare dell'emergenza Covid, delle sue innumerevoli sfaccettature. Ovviamente parliamo sempre dell'emergenza sanitaria, dei dati relativi ai contagi, dei decessi purtroppo, delle guarigioni. Abbiamo parlato anche della situazione legata alla crisi economica che è strettamente legata all'emergenza sanitaria, con le chiusure, con le mancate riaperture da parte di tanti esercizi commerciali, di tante imprese, di tante attività. C'è però un aspetto del quale forse si parla a poco, troppo o poco, e che invece dovrebbe interessare tutti, se non la gran parte della popolazione. Cioè parliamo dell'aspetto psicologico, al quale da un anno a questa parte siamo sottoposti un vero e proprio assedio, fatto di ansia, preoccupazione, paura, riguardo ciò che non possiamo vedere, non possiamo toccare, come il virus, per esempio la quarantena, alla quale tanti di noi sono stati costretti, o alla didattica a distanza, da parte dei ragazzi delle scuole. Vediamo di approfondire questo aspetto con un esperto del settore, la dottoressa Chiara Amaiolino, psicologa. Buongiorno e grazie per la sua disponibilità e la sua partecipazione. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, dottoressa di psicologa, chiaramente avrà avuto modo in questo anno di approfondire quella tematica di cui dicevamo, siamo praticamente sottoposti a questa pressione psicologica, data da preoccupazione, ansia, paura, chi più ne ha più ne metta. Tante emozioni alle quali dobbiamo dare una risposta e forse molto spesso non siamo allenati al farlo, perché eravamo abituati a un mondo totalmente diverso e adesso ci siamo dovuti reinventare in uno spazio brevissimo con delle conseguenze che insomma sono sotto gli occhi di tutti e forse anche lo saranno molto di più da qui in avanti. Cosa ne pensa, cosa ci può dire riguardo queste emozioni da Covid? Beh, allora, diciamo che mai come adesso con una pandemia in corso che sta letteralmente terrorizzando il mondo intero emozioni come angoscia, paura, ansia non sono mai state così predominanti in ognuno di noi. Diciamo che il rischio è che emozioni così ingombranti finiscano per pregiudicare quella che è la nostra capacità di giudizio e di adattamento alla vita, portandoci dunque a sviluppare delle problematiche serie, come per esempio disturbi psicologici, parliamo di disturbi d'ansia o di disturbi depressivi. purtroppo ad oggi questa però non è più un'ipotesi, infatti i dati ce lo dimostrano. Secondo uno studio recentissimo dell'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco, nel 2020 si è registrato un incremento, quindi un aumento del 12% dell'acquisto di psicofarmaci. Il picco è stato registrato maggiormente nel centro Italia, però tutta la nostra nazione ne è stata coinvolta. Purtroppo un ulteriore dato preoccupante, sempre dell'AIFA, è che si sostiene che si è registrato nella seconda fase della pandemia, quella che stiamo vivendo oggi, è che vi è un ulteriore aumento dell'acquisto di ansiolitici, che è maggiore dell'incremento già registrato nella prima fase. Su questi presupposti non possiamo non dire che bisogna prendersi cura della propria mente e se lo si ritiene prioritario, come d'altronde lo è, cosa bisogna fare? Io penso che bisogna partire appunto da quella che è la gestione delle emozioni, che sono le prime risposte adattive all'ambiente, le prime risposte che noi diamo agli eventi scatenanti alla vita. Mi scusi, c'è una fascia d'età che è più colpita o più caratterizzata, diciamo, da questa problematica, quella dell'ansia, della paura, della preoccupazione? Insomma, sono più colpiti, per dire, gli adolescenti, più quelli di fascia di età, più gli anziani? Allora, diciamo che la fascia di età più colpita è sicuramente quella degli over 35, nel senso che sicuramente noi parliamo tipo dei giovani, adulti, di adolescenti, ma anche di bambini. Cioè, ci sono dei dati veramente rilevanti, se dovessimo parlare per esempio di disturbi dell'alimentazione, dove si è scese esponenzialmente l'età, cioè dei disturbi dell'alimentazione, parliamo per esempio di bambini già ad 11 anni che manifestano un disturbo serio dell'alimentazione, questo parlando di disturbi dell'alimentazione, ma possiamo parlare anche di disturbi d'ansia e depressione, anche se è bene dire che la fase adolescenziale di per sé, nell'ambito appunto evolutivo, è pur sempre una fase turbolenta, ma ad oggi è sicuramente una grossa, grossa problematica, quella di disturbi d'ansia per i giovani o comunque disturbi depressivi. Da che cosa si inizia, come si inizia la terapia, oltre che ovviamente l'approccio con uno psicologo, che senz'altro oggi più che mai non lo è mai praticamente un'offesa andare dallo psicologo, ma anzi è una necessità per molte persone, ancora di più in questo momento storico che stiamo vivendo. Beh, allora, diciamo che noi oggi siamo qui per comprendere quelle che per esempio possono essere le emozioni come dicevamo all'inizio e come gestire, la capacità di gestione non è difficile a dire il vero, bastano delle semplicissime strategie, però è anche vero che quando una persona non sente di non riuscire a gestire a questa impossibilità appunto di riuscire a gestire autonomamente quelle che sono le proprie emozioni, appunto la propria vita in generale, è necessario comunque affidarsi ad un professionista. Lo si può fare ovviamente rivolgendoci ai consultori che si trovano appunto nel nostro territorio, o professionisti comunque che lavorano nel privato, sì c'è anche un grandissimo settore comunque emergente che è quello del settore appunto di professionisti che lavorano nell'emergenza, quindi che sono impegnati nelle ASP, insomma ci si può comunque rivolgere a un'innumerevole categoria, ovviamente che si tratti sia di psicologi quanto di psicoterapeuti, quando vogliamo parlare di problematiche più specifiche ovviamente. Cosa pensa che ci riserverà il futuro? Perché chiaramente questa paura, questa ansia, questa preoccupazione che ci pervade non credo che si concluderà nel momento in cui si concluderà la pandemia, speriamo presto. Gli strascichi comunque ci saranno, la paura del futuro, la preoccupazione che possa scatenarsi un altro virus, perché no? Anzi probabilmente c'è chi soffia anche su questo, ma questo praticamente è un altro problema. Quindi secondo lei come dobbiamo prepararci appunto al domani, al dopo pandemia? Beh, allora io credo che sia di fondamentale importanza fare un buon esame di realtà, cioè l'esame di realtà non è una cosa scontata, ma comprendere quello che ci sta succedendo è sicuramente un primo passo per non solo esserne coscienti, ma anche poter raggiungere quelli che sono gli strumenti per andare appunto a fronteggiare una situazione pre, durante e post una pandemia. Però cosa vuol dire fare un esame di realtà? Un esame di realtà significa che non bisogna sottovalutare la situazione che si sta vivendo, ma allo stesso tempo non catastrofizzarla. Non sottovalutare significa che dobbiamo prendere sicuramente atto della pandemia in corso, che c'è un virus con una grandissima capacità di contagio, pertanto adottare le misure restrittive che ci sono richieste servono a non esporci a questo rischio. Allo stesso tempo non catastrofizzare, su questo ci tengo a sottolineare questo aspetto perché molta gente purtroppo ha questa tendenza che svia su quello che può essere appunto un giusto esame di realtà. Quindi non è la prima pandemia, come diceva lei Puganzi, che si abbatte sulla terra. Quindi partiamo dal presupposto che l'uomo ha vissuto la spagnola, ha vissuto la peste nera, che sono state anche molto letali, ma è la prima pandemia che noi possiamo affrontare con una medicina molto avanzata, con una tecnologia ed informazioni mai vissi prima, giusto? E quindi anche con una grande cooperazione internazionale. Inoltre ricordiamoci sempre che rimanere a casa, mantenere il distanziamento, comunque rispettare in questo caso le regole dei PCM, è fondamentale per rimanere al sicuro. Possiamo anche dire, dottoressa, che dovremmo anche un po' prendere coscienza della nostra natura umana sostanzialmente, perché l'uomo è fatto e ha una sua fragilità chiaramente, si ammala, muore, insomma probabilmente questo ci ha insegnato anche questa pandemia, che dobbiamo prendere atto, insomma, della nostra fragilità, della nostra natura, no? Senza dubbio, senza dubbio. Io credo che il momento che stiamo vivendo, nel momento in cui stiamo vivendo appunto, non si può non considerare normale avere paura o di essere comunque sopraffatti da emozioni come appunto angoscia e rassegnazione. Parliamo anche di un periodo di forte precariato, quindi tutto questo è normale. Allo stesso tempo possiamo dire che è anche adattivo, cioè nel senso che se noi ci troviamo in una condizione di paura e quindi preoccupazione o prensione per quello che può essere la situazione attuale o il futuro, riconosciamo sempre che comunque la paura essendo adattiva ci mette nella condizione di riconoscere e quindi ascoltare quelli che sono i nostri bisogni, a volte anche più interni, più intimi e andare a comunque considerare quello che è il nostro sistema di valori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque noi ci mettiamo nella condizione di dare la migliore risposta a quello che l'ambiente ci sta offrendo. In fondo tutto quello che stiamo vivendo, anche questi sentimenti che possono essere, cioè da molti vengono considerati, io sento spesso dire che è un periodo in cui ho emozioni negative, ma è bene ricordare che non esistono emozioni positive o negative, è la capacità che ognuno di noi ha nell'affrontare l'emozione che determina la positività o la negatività. Ricordiamolo bene questo. Quindi il famoso appello a trarre anche spunti per così dire di ottimismo, comunque di positività diciamo da questa esperienza è sempre valido, no? Ancora di più in questo momento. Certo, certo, certo. Come sempre dipende tutto da noi. Sì sì, senza dubbio. Io penso che sia priorità, non voglio assolutamente fare polemica, però al momento mi vengono un pochino in mente tutte le questioni che si stanno un po' aprendo negli ultimi giorni dopo le affermazioni di Draghi, che io mi auguro in merito alla vaccinazione degli psicologi che rientrano come figura sanitaria, cioè io mi auguro che comunque venga rivista un pochino questa intervista ed è necessario comunque comprendere che è di fondamentale importanza prendersi cura della propria salute. Questo è indubbio, ma non si può non considerare come salute la salute psicologica. Ricordiamo sempre che la mente in questo caso, quindi la psiche, può determinare sintomatologie fisiche come allo stesso tempo può determinare appunto la possibilità di miglioramento e quindi di guarigione anche di problematiche, di sintomi fisici. Parliamo della più semplice delle problematiche che comunque uno avverte in uno stato per esempio di apprezzione, comunque in momenti di stress o il famoso burnout che stanno vivendo tantissimi professionisti. Parliamo di questa gastrite o io non riesco a digerire un periodo e non è dovuto a Pasqua e Pasquetta o alla miriade di cose che si stanno mangiando in questo periodo, assolutamente no, ma si vive in uno stato appunto psichico, comunque in una condizione psicologica di tensione che ne determina una sintomatologia anche di questo tipo. Quindi se ragioniamo anche su questi aspetti possiamo anche comprendere quanto sia di fondamentale importanza prendersi cura della propria mente. Io finirei qua, insomma con questa sua chiarissima con questa sua chiarissima enunciazione, con questo anche appello a prenderci cura di più di noi stessi e della nostra salute mentale anche facendo affidamento ai professionisti del settore. Io ringrazio la dottoressa Chiara Maiolino, psicologa, magari avremo modo in queste settimane di sentirci, di vederci più spesso con lei e di approfittare della sua disponibilità per qualche consiglio in questo campo così importante e così delicato. Grazie dottoressa. Grazie a voi, una buona giornata. Arrivederci.